Le categorie economiche chiedono a Gianni di promulgare lo stato di emergenza per la Val Bisenzio. Lavori di asfaltatura in tangenziale, scoppia il caos, traffico in tilte, città paralizzata. Colpo nella notte ai danni di un negozio di orologi, ladri forzano la cassaforte e scappano con la rifurtiva. Oltre 2.500 studenti stamani alla marcia della legalità in occasione della giornata per le vittime di mafia. Prato ricorda la figura del vice sindaco Luigi Biancalani con un libro, intanto ieri sera la presentazione in comune. Una buona serata dalla nostra redazione, ben trovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Le categorie economiche chiedono a Gianni di promulgare lo stato di emergenza per la Val Bisenzio. Col nuovo stop alla riapertura dell'SR325, il rischio crollo economico, scrivono Confindustria Toscana Nord, Confartigianato e CNA. Promulgazione immediata dello stato di emergenza per la situazione della Val di Bisenzio. Lo chiedono a gran voce le associazioni di categoria Confindustria Toscana Nord, CNA Toscana Centro e Confartigianato e Imprese Prato in una lettera al governatore Eugenio Gianni. Una misura, scrivono le associazioni, in linea con quanto adottato per il simile evento accaduto nel 2019 in provincia di Pistoia che preveda l'istituzione di strumenti volti alla concessione di contributi e ristori in favore delle imprese fortemente penalizzate dalla chiusura dell'SR325. La richiesta arriva proprio in seguito allo slittamento a data da destinarsi della riapertura dell'A325 a senso unico alternato, un piccolo ma importante passo verso la normalità. Alla luce di questa novità, sottolineano le associazioni di categoria, si amplificano infatti le già enormi difficoltà per il sistema produttivo pratese, oltre che per la cittadinanza, che si stanno manifestando con crollo di fatturato delle aziende, aumento vertiginoso dei costi di trasporto e rischio crescente per l'occupazione. Le associazioni ribadiscono infine che al di là di questi ristori, importanti ma non certamente risolutivi, la vera soluzione consiste nella rapida riapertura della 325 e soprattutto nella progettazione di opere e viari alternative che possono consentire di superare lo stato di crisi in cui la strada viene a trovarsi con insistente frequenza. Alla richiesta di stato di emergenza regionale avanzata dalle categorie economiche si unisce anche la parlamentare di Forza Italia, Erika Mazzetti, una richiesta giusta e comprensibile, viste le difficoltà nel ripristino di Chiara Mazzetti, che chiede a Gianni di agire prontamente prima che il danno sia irreversibile. Poi, aggiunge, si dovrà avvaliare infrastrutture alternative per dare ossigeno al distretto e per evitare in futuro altre interruzioni simili. Città paralizzata nel tardo pomeriggio di oggi con automobilisti che hanno impiegato oltre un'ora per percorrere pochi chilometri. Code nella zona est, code nelle strade di accesso al centro, code chilometriche per chi deve attraversare la città da sud a nord e raggiungere il Val Visenzio per inerpicarsi lungo il quotidiano tragitto ostacoli della viabilità alternativa alla frana. I problemi maggiori si sono verificati dalle 18 alle 20. Il problema principale che ha fatto impazzire il traffico in quasi tutta la città sono stati i lavori di rifacimento del manto stradale sul Ponte Valli, il tratto della tangenziale che sorpassa la stazione di Borgo Nuovo. Qui, sul Viale Nandim, in direzione nord, dalla giornata di oggi si transita su una sola corsia. I lavori non erano stati preannunciati dal Comune alla cittadinanza, lavori di cui nessuno sapeva niente ed anche la Polizia Municipale si è trovata in difficoltà a gestire il traffico. L'ordinanza prevede la riasfaltatura della tangenziale in più punti e ha validato fino al 5 di aprile. Sarà rifatto il manto anche sul tratto successivo in direzione nord, su Viale Fratelli Cervi, nella parte che arriva fino all'intersezione con Via Liliana Rossi. Colpo nella notte ai danni di un negozio di orologi vicino al Ponte Almercatale. In pochi minuti i ladri hanno smurato la cassaforte, scappando con l'area furtiva. È il secondo furto subito dalla stessa attività nel giro di nove mesi. Hanno agito in pochi minuti con velocità e destrezza, hanno forzato la porta di ingresso, hanno smurato la cassaforte portandola con sé. In gente il bottino ancora da quantificare. Il colpo è avvenuto stanotte intorno alle 3.30 ai danni del negozio Virol Watch in Via Giacomo Matteotti, poco lontano dal Ponte Mercatale. Protagonista è una banda organizzata che in meno di due minuti è penetrata all'interno dell'esercizio, specializzato in riparazione e vendita di orologi. Il gruppo è poi riuscito a dileguarsi ad alta velocità in direzione Pistoia, nonostante l'arrivo dei carabinieri e il tentativo di inseguimento della vettura da parte dei militari. Le immagini di videosorveglianza del negozio mostrano quanto accaduto. I complici, col volto travisato, utilizzano un divaricatore per aprirsi un varco all'ingresso, poi una volta entrati mirano la cassaforte e gli orologi preziosi custoditi nella cassetta di sicurezza. L'allarme, scattato immediatamente, ha costrito i malviventi a fuggire a bordo di un'auto, con targhe probabilmente false o rubate. I carabinieri, giunti in direzione contraria, non sono riusciti a fermare il mezzo, che si è dileguato ad alta velocità. Si tratta del secondo furto avvenuto all'interno del negozio in pochi mesi. Nel giugno 2023, una banda di ladri specializzata aveva utilizzato come ariete un'auto rubata poco prima. Il mezzo era stato lanciato contro Saracinesca e vetrate andate in frante. Il gruppo era poi riuscito a prelevare oggetti preziosi e a fuggire, intorno alle 4.30 del mattino, a bordo di una seconda macchina, anche questa rubata. Danni per diverse decine di migliaia di euro anche in quella occasione. E' stata approvata oggi dal Consiglio Comunale l'ultima variazione al bilancio di previsione 2024-2026. Si sono astenuti Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Non Moderati e Lega. Anche questa variazione, come la precedente di fine anno, contiene uno stanziamento di risorse del Comune per finanziare gli interventi post alluvione. Come ha spiegato l'assessore al bilancio Benedetta Squittieri, si tratta della terza tranche di fondi comunali dopo il 2 novembre. In tutto, dal bilancio comunale, sono stati destinati 11,6 milioni di euro per i danni provocati dagli allagamenti. Tra gli interventi, i lavori di pulizia e repristino del cimitero di Chiesa Nuova, la messa in sicurezza di argini e l'adeguamento dei tratti tombati di fossi e torrenti, il completamento dei lavori e l'allestimento degli arredi del nido arcobaleno, in tempo utile per l'inizio del nuovo anno educativo. Più di 2.500 studenti questa mattina hanno partecipato alla marcia della legalità organizzata da Libra in occasione della giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie. Per noi c'era Giacomo Cocchi. Sono più di mille e sono i nomi delle persone uccise dalle mafie. Gli hanno scanditi uno per uno gli studenti pratesi in occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. In 2.500 hanno partecipato alla marcia della legalità organizzata anche quest'anno da Libra, l'associazione promossa da Don Luigi Ciotti. Ospite della manifestazione Giovanni Chinnici, figlio di Rocco Chinnici, il giudice tra i fondatori del pool antimafia di Palermo ucciso da Cosa Nostra. Una mafia che è cambiata, che non ha più quella offensività militare ma che ha mantenuto tutte le capacità di infiltrarsi nel mondo economico e nel mondo politico delle amministrazioni locali che indubbiamente bisogna stare attenti e i ragazzi devono sapere dell'esistenza di questo fenomeno. È una marcia della nostra scuola, ci sono anche altre scuole, per spingere le persone a parlarne e per abbattere l'omertà che c'è tanto presente in questo paese. Andiamo qua a manifestare perché la mafia c'è ma anche se non si vede è giusto manifestare. È importante farci sentire contro qualcosa che poi ai nostri occhi non appare poi alle superfici, è giusto farci sentire. L'iniziativa ha coinvolto in particolare gli studenti del liceo Livi Brunelleschi, unica scuola in Toscana ad aver aperto al proprio interno un presidio di Libera intitolato alla memoria di Anna e Giovanni De Simone, le due vittime più giovani della strage del rapido 904. Perché si possa garantire negli anni una continuità per la sensibilizzazione, per l'attenzione a questi temi rivolta alle giovani generazioni. Prato non è terra di mafia ma è una terra in cui le mafie sono presenti. Affari, riciclaggio, gioco d'azzardo, lavoro nero. Lavoro nero è mafia alla fine. Un omaggio a Luigi Biancalani, vice sindaco e protagonista per decenni della vita politica e sociale della città. Ieri sera in Palazzo Comunale è stato presentato il libro a lui dedicato. Vediamo. Un viaggio ritroso nel tempo tra ricordi, aneddoti, documenti e foto. Si intitola O a cuore, il libro dedicato alla figura di Luigi Biancalani, vice sindaco di Prato, scomparso nell'agosto del 2022 che nell'arco della sua vita è stato presidente dell'Ordine dei Medici per vent'anni e proposto della misericordia. Il volume, promosso dall'associazione Punto d'Incontro, è stato presentato in Palazzo Comunale nel corso di una serata organizzata dal sindaco Matteo Biffoni. Si sentiva il bisogno, un gruppo di amici che formano questa associazione, Punto d'Incontro, quando Gigi ci ha lasciato è subito venuto fuori questa idea di raccogliere una serie di testimonianze che sono un patrimonio per Prato e noi ci siamo fatti carico di molto volentieri di fare questa cosa. Stasera, nel giorno del compleanno di Gigi, uno zio, un quasi babbo, tante cose, Luigi è stato e è complicato, anche a distanza di tempo per me, è complicato umanamente perché io a Gigi volevo bene davvero, gli voglio bene davvero, voglio bene la sua famiglia e per me è come un pezzo di casa, è stata una grande persona. Curato dal giornalista Piero Cecatelli, il libro racconta la storia di Prato nello spaccato di vita politica, sociale e istituzionale della città degli ultimi 60 anni, grazie anche a una serie di testimonianze. Alla presentazione sono intervenuti anche i familiari di Biancalani. Sono emozionata perché questo è un libro che non vuole essere, secondo me, un testo di ricordi e basta, ma vuole essere proprio un percorso, un percorso di vita che Luigi ha fatto in vari contesti, nei quali è stato presente e a volte anche protagonista, per cui sempre legato alla città di Prato che gli ha voluto tanto bene e la città di Prato lo sta davvero ricambiando e anche Luigi ha voluto tanto bene a Prato. Un approfondimento dedicato all'iniziativa in ricordo di Luigi Biancalani andrà in onda stasera alle ore 22 e subito dopo Parliamoci Chiaro nell'ambito del format Obiettivo Prato con altre testimonianze raccolte in occasione della presentazione del libro. Alle amministrative di Prato si presenterà anche la lista alternativa per i beni comuni, candidata a sindaco Paola Battaglieri, architetto, tecnico in area pubblica e coordinatrice del Social Forum. Vogliamo ribadire le cose essenziali come l'acqua pubblica, il diritto alla casa, i trasporti locali funzionali, assistenza socio-sanitaria, lavoro sicuro e dignitoso che restano l'ABC della democrazia reale e che sono le priorità programmatiche della nostra proposta politica. Si legge in una nota della lista che insieme ad altri soggetti dell'attivismo civico e a rifondazione comunista vuole portare nel dibattito politico istanze e rivendicazioni raccolte in oltre un anno di condivisione con varie realtà del territorio. Il capolista sarà Maurizio Giardi, impegnato in politica, oggi scrittore. Si è tenuto ieri pomeriggio il primo dei tre appuntamenti organizzato dal gruppo giovani di Confartigianato dedicato al tema del passaggio generazionale nelle piccole e medie imprese. Il tema del passaggio generazionale è un tema cardine, molto sentito da parte della nostra associazione. Basta pensare che l'85% delle attività imprenditoriali a livello italiano è a conduzione familiare e solo il 30% riesce a resistere oltre la seconda generazione. Quindi è evidente che è un tema importante che riguarda il passaggio di competenze e non solo di patrimonio e come associazione abbiamo pensato appunto di organizzare un ciclo di incontri anche grazie alla collaborazione di altre categorie e di altre giovani professionalità proprio per approfondire meglio il tema e poter avere anche degli spunti di riflessione maggiori per affrontare la problematica. Pertanto come giovani imprenditori di confartigianato abbiamo chiesto sostegno ai giovani avvocati e ai giovani commercialisti ed è venuto fuori effettivamente un calendario di appuntamenti che sono tre veramente molto significativi dove affronteremo temi giuridici, legali proprio a riguardo del passaggio generazionale. Poi passeremo ad attività diverse in quanto nel mese di aprile affronteremo i temi fiscali mentre invece a maggio faremo un incontro conclusivo dove porteremo alcuni esempi di imprenditori che hanno effettivamente lavorato al passaggio aziendale e avremo anche la possibilità di ospitare una nostra funzionaria di confartigianato imprese della Toscana appunto che si occupa di progetti proprio relativi a contributi europei eccetera. Ammonta 3.650 euro la cifra raccolta da confartigianato imprese Prato a favore della Mensa Lapira con la consegna ufficiale da parte del presidente Luca Giusti alla presidente dell'associazione Elena Piralli si chiude così anche quest'anno la sottoscrizione partita in occasione della tradizionale cena natalizia giunta la sua ventesima edizione e proseguita attraverso donazioni da parte dei soci di confartigianato sul conto corrente dedicato. Si è parlato del legame speciale tra Padre Pio e la città di Prato nel nuovo incontro dei tè di Toscana oggi che si è tenuto ieri pomeriggio nel complesso di San Domenico nel corso dell'iniziativa è stato possibile ascoltare le testimonianze di alcuni pratesi che hanno conosciuto personalmente il santo di Pietralcina vediamo Prato è una città molto devota a Padre Pio c'è un legame che parte da lontano e che ha visto protagonisti molti pratesi che sono andati a San Giovanni Rotondo e hanno conosciuto San Padre Pio è vero Prato è veramente a stretto contatto con il popolo pratese già nei primi anni 50 c'era quello si può dire all'epoca flotte di persone che andavano a San Giovanni Rotondo a conoscere questo umile fraticello sperduto in questa terra di San Giovanni Rotondo i pratesi ci sono intere famiglie tuttora lo ricordano con tanto affetto e si commuovono solo al pensiero hanno avuto legami strettissimi portavano avanti rapporti anche di consigli di lavoro capire se era la cosa giusta intraprendere un'azione piuttosto un'altra un vero e proprio consigliere tutto tondo che oggigiorno farebbe veramente tanto comodo avere una persona come lui che ci aiuterebbe a risolvere tante belle cose Perché Padre Pio è così amato? Allora Padre Pio ha un carisma particolare chi l'ha conosciuto ovviamente ne porta un ricordo e una testimonianza che poi trasmette anche alle persone come me che l'ho conosciuto in ritardo diciamo l'ho conosciuto e mi definisce nipote di Padre Pio La devozione a Padre Pio si sostanzia nella preghiera e qui a Prato esistono tanti gruppi di preghiera che si ritrovano nel nome di Padre Pio e stanno anche aumentando È vero sì allora in tutto sono 11-12 uno è nato da poco a Vergaio e poi altri sono in fase embrionale e si spera che abbiano consistenza Banca Alta Toscana chiude il 2023 con 18 milioni di euro di utili accresce il proprio patrimonio a 121 milioni per iniziative a vantaggio dei soci del territorio riversati oltre 4 milioni di euro Anche il 2023 è stato un anno molto positivo per Banca Alta Toscana che ha chiuso il bilancio con un utile netto di 18 milioni di euro il nuovo miglior risultato storico della BCC La raccolta complessiva è cresciuta del 2,4% superando quota 1,8 miliardi di euro mentre gli impieghi lordi a clientela si sono attestati a 911 milioni Grazie ai risultati di bilancio che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci il prossimo 5 maggio Banca Alta Toscana cresce il proprio patrimonio che raggiunge i 121 milioni di euro Ha risultato eccellente se vogliamo citare i numeri l'utile raggiunge quota 18 milioni in un contesto di equilibrio degli indici economici finanziari e patrimoniali molto rassicurante Quello che ci fa piacere è che ci siamo mossi a livello operativo nello stile della Banca Decreto Cooperativo Ovviamente dobbiamo agire da banca nell'ambito delle regole fissate da Banca Italia da BCE quindi gli aspetti tecnici sono fondamentali ma quello che la nostra rete commerciale e la banca nel suo complesso fa mixa questi fattori con gli aspetti umani nell'interesse della persona dell'individuo quindi come spesso mi accade di dire noi lavoriamo per l'innovazione ma nel solco della tradizione Tra azioni di solidarietà e beneficenza a livello locale iniziative bancarie ed extra bancarie a vantaggio dei soci fra cui borse di studio e bonus bebè Banca Alta Toscana ha riversato sul territorio oltre 4 milioni di euro particolarmente apprezzato l'intervento post alluvione con un plafonde di 30 milioni di euro messo a disposizione per prestiti agevolati fino al tasso zero a famiglie e imprese colpite dall'emergenza C'è stato l'intervento per le famiglie e le imprese colpite dall'alluvione nel nostro territorio che è stato veramente molto efficace è avvenuto in tempi brevissimi e ha aiutato veramente tante tante famiglie questo c'è stato riconosciuto dalle nostre comunità infatti nei due mesi recentemente passati la nostra compagine sociale è cresciuta di oltre 400 unità Opportunità di business per le aziende italiane nel South East degli USA se ne è discusso al Palazzo dell'Industria di Prato nel corso di un convegno ce ne parla Massimiliano Masi Il sud-est degli Stati Uniti è pronto ad accogliere le aziende italiane che volessero sbarcare negli States Il convegno organizzato al Palazzo dell'Industria dalla Camera di Commercio di Miami ha voluto illustrare con le relazioni di imprenditori e professionisti tutte le opportunità di business che possono nascere nel sud-est degli Stati Uniti e più precisamente negli stati della Florida Georgia Sud e North Carolina Questo è un incontro per presentare alle aziende il mercato del sud-est degli Stati Uniti e spiegare come accedere nella maniera migliore a un mercato che è probabilmente nel complesso americano il mercato più grosso al mondo per quanto riguarda le esportazioni italiane e le opportunità di crescita per le aziende piccole e medie italiane La Camera di Commercio di Miami è a differenza delle Camera di Commercio italiane non un ente statale ma un'associazione di imprenditori di imprese al servizio delle imprese quindi diamo dei servizi di mentoring ma dei servizi pratici da Elco Working nei nostri spazi a domiciliazione per entrare nel mercato americano evitando gli errori più comuni che possono fare le aziende Opportunità di business negli USA ma anche tanti ostacoli da superare con l'ausilio e supporto di esperti nel settore Io darò un contributo oggi pratico in quanto da molti anni frequento la Camera di Commercio italiana di Miami che assiste le imprese italiane per tutto il sud-est degli Stati Uniti e conseguentemente racconterò un'esperienza sul campo l'esperienza dei pratesi che sono venuti negli Stati Uniti con me che hanno aperto con successo dei nuovi business con un focus particolare alle aziende cosiddette digitali che sono entrate nel mercato e-commerce statunitense sempre molto vivace sempre molto brillante e recettivo per i prodotti made in Italy ma soprattutto made in Prato Uno dei mercati che da sempre conosciamo un pochino meglio a Prato anche per vocazione rappresenta un'importantissima fetta del nostro business e credo che un evento come quello di oggi possa aiutarci ad accendere delle lampadine insomma Musica e solidarietà sabato alle 17 alla Camera di Commercio il Comitato di Prato della Croce Rossa italiana ha organizzato un concerto della banda del Corpo Militare Volontario del Centro Mobilitazione Tosco Emiliano durante l'evento si terrà anche la cerimonia della lampada di investitura delle Croce Rossine l'incasso sarà devoluto all'acquisto di apparecchiature elettromedicali sarà suonata musica tipica delle bande e nel contesto sarà data la lampada a delle infermiere al corpo a tre infermiere volontarie che hanno superato l'esame e sono diventate infermiere volontarie quindi due corpi ausiliarie forze armate si uniscono in questa occasione il concerto è anche finalità benefica sì esatto ha una finalità benefica per l'acquisto di attrezzatura medicale e noi abbiamo il costo del biglietto è abbastanza basso perché abbiamo voluto facilitare la partecipazione anche la partecipazione dei nostri volontari le spese vengono assunte totalmente dal comitato e il modo che il ricavato sia totalmente devoluto a questo scopo sabato un concerto ma sono tante le attività portate avanti dalla Croce Rossa di Prato quali sono quindi le principali attività che state facendo e che portate avanti nel corso dell'anno siamo attivi sia con le attività sanitarie di soccorso sanitario in convenzione con il 118 ma anche per le attività di trasporto degli infermi in convenzione ovviamente inoltre speriamo presto di dare buone notizie anche per le nuove attività di assistenza alla popolazione e in particolare alla popolazione vulnerabile sempre in ambito sanitario poi oltre a questo ovviamente attività sociali attività di supporto alla popolazione durante le emergenze siamo stati operativi nei contesti di emergenza che c'è stato purtroppo nel mese di marzo e inoltre siamo anche dei grandi promotori della pace della sensibilità al diritto internazionale umanitario nonché anche all'opera di sensibilizzazione dei principi e dei valori di Croce Rossa su tutto il territorio ed è il momento dell'agenda vediamo insieme gli appuntamenti in programma domani a Prato ed intorni venerdì 22 marzo Gianpaolo Simi alle ore 18 e 30 presenta il suo libro Il cliente di riguardo in dialogo con l'autore Luca Martinelli presso sala conferenze della Lazzerini alle ore 21 la compagnia Teatro Carte inaugura la rassegna Ridoff 2024 con lo spettacolo Zona Franca all'Officina Giovani sempre alle ore 21 Ilaria Mavilla sia domani che sabato 23 marzo porta in scena il monologo diario regia di Massimo Smuraglia presso Teatro La Baracca Teatro Politeama Pratese presenta il concerto del Banco del Mutuo Soccorso alle ore 21 per la serie concerti di primavera Jacopo Taddei al sassofono e Filippo Farinelli al pianoforte alle ore 21 presso Teatro Gabriele D'Annunzio del convito Cicognini infine alle ore 21 e 15 inizia l'incontro con Federico Nannicini e Mario Dini la bellezza è negli occhi di chi vede e di chi si vede in piazza San Domenico e con l'agenda è tutto vi lasciamo adesso alle previsioni del tempo come sempre a cura del Consorzio LAM e restate con noi per le anticipazioni dei programmi della serata l'informazione di TV Prato torna domani alle 13.45 con il TG del giorno grazie per averci seguito e arrivederci stop purtroppo questo non succede solo nei film ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è affidati a veri professionisti Prato Allarme una sicurezza da Oscar era un colpo perfetto avevo curato ogni dettaglio eppure sono qui mi definivano abile scaltro infallibile infallibile e anche se non ce l'ho fatta ci riproverò potete stare tranquilli voi con PratoPol non è un caso che siano professionisti della sicurezza ho sempre pensato che la luce fosse qualcosa di magico e chi la usasse fosse una sorta di mago un prestigiatore l'incantesimo della luce trasformava tutto e tutto sapeva di magia e lo sa ancora Di nuovo una buona serata dalla sala media del Consorzio Lama ancora alta pressione per domani ma la tendenza lo vediamo da questa sequenza è per un progressivo calo della pressione soprattutto sul bacino del Mediterraneo e soprattutto sul terreno settentrionale è prevista infatti il veloce transito di una perturbazione nel corso della fine settimana rimaniamo a domani nel corso della mattina qualche nube bassa o foschia nei fondovale dell'interno poi nel corso del pomeriggio prevalenza di bel tempo salvo il transito di nubi alte stratificate nel corso del pomeriggio e in serata le temperature per domani nei valori massimi in leggero aumento fino a circa 21-22 gradi nell'interno non sguarda la giornata successiva di sabato che inizia l'insegna del bel tempo su buona parte della regione inizia quindi ad arrivare qualche nube soprattutto sulle zone di nord-ovest a partire dal tardo pomeriggio in serata anche le prime piogge rimane ancora in prevalenza un cielo poco nuvoloso sul resto della regione con questo direi che è tutto grazie dell'attenzione a partire a partire